Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi per 4 giugno. Vediamo subito i titoli fondamentali dei giornali che riguardano tutto il nuovo discorso sulla possibile crisi di governo innescato dalla conferenza stampa e rituale di Conte. Sul mio sito a nicolaporro.it avete in tre minuti tutto quello che ha detto ieri Conte se non avete voglia di leggere i giornali, quindi io vi indirizzerei là. Oggi su questa zuppa, come sempre, bisogna parlare dei commenti. Belpietro dice che tutti ora sono alla ricerca del voto, dicono che se cade Conte si va a votare, ma nota Belpietro una cosa singolare, come nel passato quando cadeva un governo in realtà si trovava sempre un modo per non andare al voto, cioè il governo tecnico, Dini per Berlusconi, si era sempre cercato il modo di non andare a votare. Il foglio nota oggi che Mattariella invece avrebbe un piano B, scusatemi, non avrebbe un piano B, cioè che se dovesse cadere Conte non ci sarebbe, a differenza, e questo coincordano con Belpietro della verità, non ci sarebbe un'alternativa a questo governo, perché non riuscirebbe a formare un governo diverso. Si tratterebbe di un unicum nella nostra legislazione lunga storia repubblicana e sapete per quale motivo? Perché in realtà questa legislatura è durata fino ad oggi 433 giorni e non esiste una legislatura più corta di quella che oggi verrebbe a cessare se si andasse a votare nei prossimi 30, 40, 50 o anche 60 giorni. La legislatura più corta è stata quella dell'undicesima ed è durata, secondo il foglio, 722 giorni. Può durare ancora 300 giorni questo governo o meglio può durare ancora 300 giorni questa legislatura? Ci si chiede più o meno retoricamente sul foglio. Folli dice su Repubblica che l'inusuale comportamento di Conte deriva da un fatto molto semplice, perché secondo le prassi costituzionali, istituzionali, ma le stesse prassi che ieri rivendicava Conte nel suo discorso, lui aveva due possibilità, andare al Quirinale e rimettere il suo mandato, oppure andare alle Camere a chiedere la fiducia. Non ha fatto nessuna delle due cose, ha parlato al popolo perché sentissero soltanto due persone, il Di Maio e Salvini. Ha verificato e reso forte le sue minacce di dimissioni fuori da un tavolo tecnico, ma facendolo sapere a tutti quanti. Allora a questo punto, ma il post chi te lo scrive? Mi chiede qualcuno, no? Il post lo scrivo io, solo che molti si lamentano dei miei post, cioè dei testi che io scrivo su Facebook. Alcune volte mancano le H, alcune volte ci sono degli accenti sbagliati. Il motivo è molto semplice, perché l'ho detto attraverso questo microfono che in questo momento ho tolto perché molti di voi dicono che non funziona l'audio. Infine, sempre sui commenti rilevanti al discorso ieri di Conte, inusuale secondo molti aspetti, anche secondo quello che qualcuno oggi scrive, per esempio Brambilla, che Dio ci protegga dagli ira dei timidi. Così parte il direttore del quotidiano nazionale, Dio ci protegga dall'ira dei timidi perché obiettivamente quello che ieri abbiamo visto è un Conte che è vero che usa il latino orum, è quello che volete voi, ma è un Conte con un piglio completamente diverso rispetto a quello a cui ci eravamo abituati nelle sue inutili interviste nelle ultime settimane sui quotidiani. Cosa succede oggi? Guardate, non ve lo sa dire nessuno, sorge, folli, nessuno riesce a dirlo. Un primo segnale forse ce l'abbiamo da quello che è successo ieri sera, e cioè che un'ora dopo aver finito la conferenza stampa, nello studio di Conte si sono trovati il Presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, Uva, il Presidente della Lega, poi Toninelli, Ministro dei Trasporti e il sottosegretario Garavaglia. Bene, dovevano cercare di trovare una soluzione allo sblocca cantieri. La Lega vuole che sia cancellato completamente il codice degli appalti per i prossimi due anni. E in realtà Conte ha detto che questa è una cosa che non si può fare, il Movimento 5 Stelle lo ha seguito. Beh, la buona sostanza di questa vicenda è che ieri Conte si è arrabbiato di nuovo perché Lega e Movimento 5 Stelle non si mettevano d'accordo, o meglio, la Lega cercava di andare avanti per la sua strada, che non è quella del governo. Insomma, oggi gli analisti, che ricordano ovviamente tutti quanti la riunione di ieri sera, dicono in buona sostanza che la Lega è alla ricerca di un, come possiamo dire, di un protesto per far cadere questo governo. Nel frattempo, beh, è stupendo il titolo del tempo, non l'ho messo nel mio riassuntino, viva i Rom e fanno fesso Fico, perché lo ricorda il giornale Oggi, ma lo ricorda soprattutto in apertura il tempo, unico giornale in Italia, che mentre Fico diceva che la festa della Repubblica era dedicata anche a migranti sim, no, Rom è quello che più amate, metteteci dentro, mentre diceva questa cosa, 5 migranti, 5 scusatemi, 5 nomadi bosniaci, 5 sinti o come cavolo si definiscono, non so esattamente qual è l'etnia di questi 5 bosniaci, che sono state pizzicate proprio là, durante la festa, a rapinare dei turisti che stavano lì a guardare la festa della Repubblica. Beh, io trovo una cosa straordinaria questa vicenda, che mentre il Presidente della Camera dice l'integrazione e la festa, quelle là stavano sgraffignando, Feltri ovviamente da par suo, se la prende con Fico, la Repubblica se la sono conquistata gli italiani, l'anglosassoli, non si riesce a capire che cosa ci entrino i sinti in queste celebrazioni. Da segnalare, poi arriveremo a Trump, sempre su La Verità, una lettera che scrive Formigoni dal carcere, una lettera che io vi consiglio, perché è una lettera piena di dignità, è una lettera in cui racconta il suo, il suo, come passa il tempo, l'importanza del tempo, la cosa che noi non ci rendiamo mai conto, perché ne abbiamo, speriamo tanto a disposizione, come il tempo sia, come possiamo dire, qualche cosa che abbiamo quanto ne vogliamo. Non è così, chi è in carcere, soprattutto, almeno questo è quello che dice Formigoni, si rende conto dell'importanza del tempo, una lettera molto bella, qui risponde Feltri dicendo, come fa Feltri, in maniera sbligativa, chiedi la grazia, non meriti di stare in carcere. Questo è quello che dice Feltri ed è la corrispondenza per gli interessati da leggere sulla Libero. Un pezzo favoloso, oggi sono di buon umore, è quello sulla xylella, la malattia per cui vengono uccisi gli olivi della coratina, a cui sono molto legato, la mia azienda si chiama Tenuta Rasciatano, andate sul sito, vedrete tutto quello che faccio, moriranno tutti gli olivi in Puglia. E perché moriranno tutti gli olivi in Puglia? Perché ci sono dei criminali che hanno pensato che ci fosse un complotto della Monsanto, delle multinazionali. E a questo complotto chi ci ha creduto? Ci hanno creduto politici locali, magistrati locali, che hanno indagato dei ricercatori che dicevano che dovevamo semplicemente cancellare, distruggere, fare un cordone sanitario di quegli alberi. Non l'abbiamo fatto, finirà l'olivicoltura come conosciamo, sentite questa zuppa fra qualche anno, finirà l'olivicoltura come conosciamo in Puglia e oggi Capone vi spiega come cazzo è stato possibile uccidere un nostro settore in prospettiva in Puglia perché Fatto Quotidiano alcuni media e procuratori hanno alimentato questa minchiata dei diserbanti della Monsanto, del complotto, mentre bisognava soltanto radere al suolo gli alberi infetti. Non l'hanno fatto e ormai la malattia si diffonderà per tutta la Puglia. Complimenti, favoloso. Altro che le minchiate, leggete su ambientalismo, Verdi, Greta, bisogna essere seri su queste cose e quindi quando c'è una malattia bisogna sradicarla, invece ce ne siamo fregati. Formigoni non si merita di stare in carcere come non si merita di stare in politica. Ora sta dove? Boh qualcuno, la xylella colpisce solo un tipo di olivo, eccola là, è arrivata, la xylella colpisce solo un tipo di olivo, eccola là, abbiamo finalmente il fenomeno, la xylella colpisce solo un tipo di olivo, ma io vorrei veramente tutti i fenomeni qua. Perfetto, la cosa stupenda oggi Trump a Londra, tutti i giornali italiani sfottano Trump, il burlo, il saluto con la mano della regina, non gli ha baciato la mano, eccetera, ma l'epica dell'antitrampismo oggi lo fa come sempre avviene Gramellini che dice che il suo aereo radeva l'oceano per uccidere i pesci, tutto perché aveva in un tweet detto che il sindaco di Londra era, cos'è che aveva detto il sindaco di Londra, che era un perdente, una cosa di questo tipo, nessun giornale italiano, mentre bullizzano Trump, dice quello che scrive il Daily Mail, giornale popolare, un tabloid americano e inglese, scusatemi, che celebra i winners e mette Trump, la moglie e la regina, e i losers, i perdenti, nei perdenti il giornale inglese, mentre il sindaco di Londra, che si chiama Saeed Khan e Corbyn, perché li mette tra i perdenti il giornale, che non è, come posso dire, il giornale dei fascisti? Per un semplice motivo, perché i giornali italiani si dimenticano che il tweet di Trump, il presidente della Repubblica, eletto democraticamente dagli americani, l'alleato storico degli inglesi, prima di arrivare a fare la sua visita ufficiale in Gran Bretagna, è stato accolto da un tweet, da un'intervista del sindaco di Londra, che diceva che Trump era il fascista del ventinesimo secolo. Se il sindaco di Londra, alla vigilia di una visita ufficiale, sostiene che il presidente della Repubblica americano è il fascismo del ventesimo secolo, forse questo potrebbe aver causato il tweet di Trump, e non essere stato Trump che si è svegliato una mattina, come sembra oggi sui giornali italiani, a insultare gli inglesi, ha insultato il sindaco che gli dà del fascista. Ci può stare questo o no? Visto questo sindaco fenomeno che toglieva i manifesti con le donne perché erano contrari all'etica nella città della Swinging London, che noi avremmo avuto per il sessismo, per tutte queste minchiate che si è inventato il sindaco. Si potrà criticare il sindaco di Londra, magari non gli dice che è un fascista al musulmano, ma il musulmano magari non dice che è un fascista il cristiano. Ecco, insomma, così la mettiamo tutta pari e siamo tutti d'accordo. Nel frattempo il Daily Mail ricorda che Corbyn, il leader dei laboristi, antisemita, l'uomo che andava a celebrare ai, come si dice, al cimitero quelli che lui considerava i martiri islamici, beh, il signor Corbyn non si è presentato al banchetto ufficiale a Buckingham Palace e Daily Mail dice ma scusami, è lo stesso Corbyn che si era presentato invece al banchetto ufficiale con il leader dei cinesi, cinese, del più grande partito comunista mondiale, sempre a Buckingham Palace poche settimane fa. Cioè, con i cinesi sì e con Trump no. Spiegatacela, chiede. Il giornale Daily Mail che vi consiglio di leggere. La rivolta dei giudici milanesi contro il gran pasticcio di Roma ladrona per quanto riguarda i magistrati e poi il Renault Fiat alla fusione, bello il pezzo di Criseri che ci sono tre nodi da sciogliere, tutti e tre perché vedono i francesi voler contare di più in questa aggregazione. Il primo è che vogliono un posto in consiglio di amministrazione, dice Criseri, se ce l'avranno quelli di Nissan è inevitabile che lo Stato francese avrà un posto in consiglio di amministrazione, sa va a dire. La seconda, il quartier generale lo vogliono a Parigi e lui diceva che i quartieri generali oggi non hanno più gran senso perché sono società che producono in tutto il mondo, quindi insomma mi sembra una richiesta un po' così che lascia il tempo che trova. Ma l'altra cosa favolosa è che vogliono un extra dividendo i francesi da un miliardino. Ma dicono, calcolate che gli Elcan avranno un extra dividendo di due miliardi e mezzo. Ma dice Griseri sulla Repubblica, ma ragazzi ma di che stiamo parlando? Renault vale meno di Fiat se si fondano, fondendosi e creando una società al 50%, quello che valeva di più deve prendere un extra dividendo, quello che vale di meno ma quale extra dividendo vuole. Insomma mi sembrava molto chiaro e comprensibile il fatto che i francesi vorranno ancora di nuovo comandare nella nuova aggregazione automobilistica. Direi che per oggi è tutto, saluto i tanti amici che mi seguono su Instagram e anche tanti amici tantissimi come sempre perché sono cinque anni che ormai facciamo questa zuppa di porro sulla nostra pagina Facebook e ovviamente sul sito nicolaporro.it. Ciao!